Vediamo oggi come usare il chip TCA954. Che cos'è? È un chip che viene venduto su breakout board, quindi su una piccola schedina dotata di pin, può servire per espandere le porte I2C di Arduino. Abbiamo un solo bus, questo qui ve ne dà 8, quindi potete collegare magari più display con lo stesso indirizzo allo stesso bus I2C. Iniziamo subito. Quante volte avete avuto la necessità di collegare più dispositivi I2C al vostro Arduino, ma purtroppo questi avevano magari lo stesso indirizzo e non potevate cambiare, quindi vi siete trovati in difficoltà. Molti mi hanno scritto come si fa ad avere due porte I2C su Arduino. Allora ricordatevi una cosa, che l'I2C è un bus, quindi se avete oggetti con indirizzo diverso li potete collegare tutti allo stesso bus. Se siete costretti, ad esempio nel caso di display, quindi volete usare due, tre, quattro display collegati al vostro Arduino usando l'SDA e l'SCL, quindi l'I2C, dovete usare una scheda tipo il TCA954A. Questo è un multiplexer, cioè una specie di selettore che vi permette di collegare più dispositivi con lo stesso indirizzo I2C al vostro Arduino. Lo trovate in vendita su eBay, Amazon e così via. È una schedina con sopra un cipettino che vi offre ben otto bus I2C. Andiamo a vedere adesso come funziona, e quindi troverete sulla scheda l'alimentazione VIN o VCC, il GND. Ha una linea d'ingresso, quindi SDA e SCL, che andate a collegare al vostro Arduino, quindi SDA e SCL di Arduino. Comunicano in questo modo. Poi inviando un apposito codice da Arduino a questa schedina, potete andare a selezionare uno degli otto bus I2C e quindi potete, per esempio, qui avrete un SDA1, SCL1, a cui per esempio collegheremo un display di quelli OLED. Questi hanno l'indirizzo fisso, quindi non possiamo scappare. Andremo poi a collegare un secondo display OLED identico, anche lì con l'alimentazione, e prendendo i PIN, questa volta SDA2 e SCL2. Come vedete è tutto molto pratico, quindi avete otto bus di uscita. Questo oggetto, anche lui in indirizzo I2C, è 0x70 di default. Potete cambiarlo a bordo a tre PIN, A0, A1 e A2. Se andate a collegarli verso il 5V o il GND, potete configurarlo in modo diverso. C'è anche un PIN di reset che serve per resetare il dispositivo. Quindi, cambiando anche l'indirizzo I2C, potete averne fino a otto collegati insieme. Andiamo a vedere come controllarlo. Non ci serve una libreria. Partiamo con uno sketch vuoto. Ci creiamo però una funzione di servizio per andare a selezionare con quale dispositivo vogliamo comunicare, quindi quale bus di uscita attivare. La chiamiamo void tca select. Questa l'ho rubata dal sito di Adafruit. Poi vi metto il link così potete andare anche a approfondire se volete. Quindi aperta e chiusa. Qui dovremo inviare dei comandi sull'I2C. Conviene, visto che useremo delle funzioni specifiche, delle I2C, fare l'include, anzi è obbligatorio, includere wire.h all'inizio. Poi la nostra schedina ha un indirizzo e lo scriviamo qua. Creo anche questo con una define, quindi faccio define tca addr, quindi l'indirizzo del nostro tca addr e metto 0x70. Ok, torniamo alla nostra funzione tca select. Qua gli passeremo un intero. Per star sicuri usiamo uint8 underscore t. È un byte, quindi un intero senza segno da 8 bit. Sarebbe per aver maggior compatibilità con tutti i tipi di schede. Se volete potete usare semplicemente unsigned byte. Qua gli passeremo questo i. se volete essere sicuri che non vi viene passato un numero strano, potete dire se i è maggiore di 7, facciamo return, quindi return senza niente, cioè la funzione non viene eseguita in modo da non creare errori. Per configurare e scegliere quale bus di uscita utilizzare, si fa così, wire. Per punto facciamo begin transmission e diciamo l'indirizzo tca addr del dispositivo con cui vogliamo parlare. Poi mettiamo subito end transmission qua in fondo, end transmission, in mezzo basta semplicemente trasmettere il parametro che abbiamo ricevuto. Questa scrittura un po' strana è un bit shift, quindi uno scorrimento di bit. Noi stiamo usando, a sinistra abbiamo l'1, dovete vederlo così, quindi scritto così, e facciamo scorrere questo 1 di tante posizioni corrispondenti al parametro che ci danno. Quindi se vogliamo attivare il primo, la prima uscita, faremo uno shift di 1, quindi questo qua scorrerà di una posizione. Se vogliamo attivare la seconda, faremo scorrere l'1 di due posizioni e così via. Quindi serve solo per spostare l'1 nelle posizioni da 1 a 8, perché per attivare la prima uscita dovremo inviare sul bus questa sequenza di bit, per attivare il secondo bus dovremo mandare questa sequenza di bit e così via, quindi scorrendo l'1. Ok, questa è la funzione che ci serve e diciamo è tutto qui. Adesso per verificare il funzionamento del nostro circuito dobbiamo usare i display SSD 1306, sono i soliti che utilizzo, quindi per utilizzarli io sono andato a includere la riveria U8X8, quindi sotto sketch fate include library, manage library e andate a installare la riveria se non ce l'avete già. quindi potete cercare U8X8, eccola qua, è U8G2, quindi la installate. Questa vi serve per appunto pilotare i display. Allora andiamo a includerla all'inizio del nostro sketch, quindi mi metto qui sotto, così che è la parte per i display. Andiamo a inizializzare i due display, devono avere due nomi diversi, quindi se sono andato a prendere il nome l'ho scelto dagli esempi della libreria, c'è tutta una serie di inizializzazioni, scegliete quella che fa per il vostro caso. Io ho un SSD 1306 da 128x64 collegato via i2C, li chiamo display 1 e display 2. Ora passiamo al setup. Nel setup dovrò andare a inizializzare il primo display. Per inizializzare il display vado di solito a fare begin, set power save 0 per attivarlo, e gli metto anche i font. Devo ripetere questa cosa per anche il secondo display, quindi copierò il codice, metto 2 però come indice. Come faccio a indirizzare questi comandi sul display corretto? Uso la funzione che abbiamo creato, quindi tca select, metto 1, in questo modo faccio sì che tutti i dati, tutte le informazioni via i2C che sto per inviare vadano sull'uscita 1 della nostra scheda. Per comandare il secondo display vado a selezionare la seconda uscita, quindi il secondo bus i2C e mando gli stessi comandi. Poi andiamo nel loop, nel loop semplicemente scriveremo un hello world, come vado a scrivere il messaggio? Abbiamo draw string, quindi nel loop scriviamo display 1, draw string mettiamo le coordinate d'inizio 00, hello world 1, poi faccio refresh display per far uscire la scritta. Anche qua devo ricordarmi di mettertici a select per selezionare il primo bus di uscita sulla nostra schedina. Incollo ancora tca select, seleziono il secondo bus di uscita e mando le informazioni sul secondo display. Quindi copio le righe, devo ricordarmi qua di mettere 2 ovviamente, cambiamo anche il testo, mettiamo hello world 2. Compiliamo il tutto, lo carichiamo e vediamo se funziona. Questo chip costa poco ed è veramente utile per risolvere delle situazioni che potrebbero essere difficili. Intanto qualcuno mi scrive disperato come faccio a collegare più cose insieme. Quindi questa è una soluzione economica e tra l'altro molto potente perché avete 8 nuovi bus i 2C. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao! Ciao!